Ciao a tutti ragazzi, ciao bambini, benvenuti sul mio canale. Oggi vi insegnerò come si fa il vulcano in bottiglia. Per fare il vulcano in bottiglia ci serve una bottiglia di plastica, una carta riciclata, un tubetto, l'aceto bianco, poi i colori con lavapiazzi e del bicarbonato. Per prima cosa bisogna aggiungere il bicarbonato nel tubetto della bottiglia. Tutto? Sì. Così? È sceso tutto? Non vai, faccio così. Sì. Bravissimo. Non è finito. Ti aiuto. No, se posso mettere l'aceto in qualche bicchiere, mettiamo questo. Verso? Sì. Da solo? Certo. In questo? In tutte e due? Sì. Ancora un pochino. Ancora? Sì, ancora un pochino. Ancora un pochino? Ecco, così può bastare. Sì, può bastare. Adesso mescoliamo. Adesso mescoliamo. Adesso devi preparare l'altro. Si ha mescolato bene di rosso, vedete? Sì, sì, va bene. Mettiamo un po' anche il giallo. Ancora un pochino? Ecco, basta. Basta? Sì. Adesso mescoliamo con la cannaccia. Ancora un pochino? Ancora un pochino. Ecco, può bastare. Si ha mescolato bene il giallo. Venite? Sì. Adesso mettiamo qui. Guardate ragazzi. Sì. Che bello, hai visto? Arancione esce? Un pochino sì. Guardate. Ancora facciamo? Puoi mettere un po' di aceto ancora. Mettilo addirittura dentro. Ancora un po' di colore? Sì, ma va bene lì. E' un po' di colore? Sì, ma va bene. Tutto? Basta. ma che bello che è fa niente anche senza mescolare o che bravo però adesso metti fede guarda quanto aspetta aspetta fede ecco lascia bravissimo guarda che sta andando federico non ormai l'hai distrutto ma la carta riciclata è distrutta vabbè guarda il bicarbonato dentro basta saluta ciao ciao